Posso dire che non comprendo l'hype per questo nuovo gelatino, chiamiamolo così. Si tratta infatti delle mini pepite al gusto di yogurt bianco della Müller. Sono andati letteralmente virali su TikTok e quindi ho voluto assaggiarle. La confezione si presenta così e si apre così. Sì, allora a parte che magari fosse stato pieno fino in cima, perché ne avrò mangiati tre in croce e sono rimasti solo questi, quindi veramente pochi. Carini, perché comunque sono carini, sono letteralmente delle pepite, così, di cioccolata. E letteralmente a me ricordano tantissimo, veramente tantissimo, il Kinder Pinguin, quello classico. Decisamente un po' delusa, perché c'era un sacco di hype e non penso di ricomprarle, perché non trovo siano niente di speciale. Anche se l'idea era molto carina.